Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno benvenuti in questo nuovo primo vlog post wellness per cui Ah che bello, ritorno alla normalità Oltretutto avete anche scoperto, appena scoperto, la mia passione per la tropical music Preso benissimo, sono le 5 e un quarto di venerdì Sto andando a prendere la Francesca perché stasera mangiamo a casa mia Ma prima dobbiamo andare a fare la spesa, a prendere 3-4 cose perché mia mamma in realtà è partita È andata in vacanza con mia zia, per cui sono praticamente a casa da solo ed è tutto molto bello È tutto molto gestibile, molto divertente, ovviamente però devo pensare anche a fare la spesa Per cui mi tocca Passiamo un attimo, mamma mia quant'è altra Sono però contento di andare all'esse lunga perché in logica ci dovrebbe essere una novità Una bevanda che è arrivata dall'America e che io ho assaggiato solo una volta nella vita Per cui sono curioso di riassaggiarla Faremo un test test Se lo avete notato, questo video sarà leggermente diverso dai soliti Perché al posto di registrare ai soliti 60 frame per secondo Che rende il video molto più fluido Sto registrando a 30 frame per secondo Appunto dimezzando, diciamo, gli stessi Più che altro per una questione cinematica Perché con appunto dei frame minori si dovrebbe avere meno fluidità d'immagine Ma consecutivamente una maggiore, diciamo, cinematicità della ripresa In sostanza, per farvi intendere, i film vengono registrati appunto sul grande schermo E trasmessi a 24 frame al secondo Per cui è un comparto un po' diverso Ditemi subito e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate Se vi piace di più questa tipologia di qualità Oppure se preferite qualcosa di molto più fluido Come mio solito Intanto io sono arrivato E direi che... Ok, aspettiamola Francesca Buongiorno Un uomo che fa la spesa Bravo Michael Voi dovete sapere che la Fra un po' si vergogna di vloggare all'esse lunga Per cui, infatti, dovremmo fare tipo tutto di nascosto Comunque stiamo prendendo un po' di verdura Abbiamo preso tipo dei crauti, dei finocchi Adesso prendiamo dei pomodorini Cavolo cappuccio, sì Cavolo cappuccio, sì Adesso andiamo a prendere un... Dove vi scelare? Andiamo al reparto pesce Però io volevo prendere due ratine C'è un pesce spada Eppure si può prendere anche una fin tazza di spada Una fin tazza di salmone No, c'è l'orata in asserta Queste qua sono tipo 385 grammi Per cui over the top Una di queste Si mette tipo con un po' di pepe e limone E ci siamo Non male L'estate zero, cioè Questa qua va fatta assolutamente una recensione Perché è una strana novità finalmente Una pezzetta zucca Questi sono una droga Anche questi qua Anche questi E poi dovrebbe esserci quello... Ah, vedi gli ulti Eccolo qua Questo qua è il nostro amico Ezio Li trovate solo all'esse lungo Oltretutto Che sono già gusti nuovi Questo che è... Questo è caffè Caffè Cacao E fior di latte Che sono appunto in formato grande Il problema è che noi Cioè Ezio io ti voglio bene Comprerei anche il tuo gelato E ti giuro ti pagherei Però non lo mangio Mmm caro il mio estate Sono proprio curioso di provarti Sei un po' curiosa di provarla? Ma sì Non so bad, vero? Sì, è che da tanto che non lo bevo L'estate Quindi... Penso che sarà Buono Mi c'è qualche musica Stiamo ascoltando Perché sta domanda è fattissima Oh, cosa volevo dire? Mi sono preso bene con le canzoni tropicali Perché mi immagino così A Santo Domingo Sotto la spiaggia Sotto la palma E invece dove stiamo? Invece siamo a mozzate Ecco Disastro Allora aspetta che qua si è capottato tutto quanto Allora a parte la spesa che tanto vi ho fatto vedere lì Per cui è inutile che sto tipo a fare l'unboxing della spesa Però ho trovato questa che non pensavo in Italia ci fosse Che è tipo il ketchup della Heinz Però quella a 50% di zucchero e sale E infatti confrontando tipo con questa Vabbè che è Calvé però È il classico ketchup medio Questo qua con appunto zucchero ridotto Ha 64 calorie per 100 grammi E 12 carbo di cui 11 zuccheri Quello normale 93 calorie di cui 21 carbo e 21 zuccheri E 2 grammi di sale contro 0,9 di questo Per cui è veramente 50% di zucchero in meno E di sale in meno Per cui non è male Non prediligo il ketchup Sono sincero Però ogni tanto magari sul pullo Devo farvi vedere quanto è bello Mitch Guarda Cagnolino Uguale Sono uscito da cagnolino Mi sto guardando Nels Per andare da lui a Bologna Settimana prossima Ah spoiler 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 Il 16 16 di giugno Vado da Nels a Bologna E da tutti i ragazzi di Space Valley Appunto per più che altro conoscerli E poi girare qualche video Penso che vloggerò qualcosa di molto ignorante Sperando che riescano almeno a fare qualche flessione Per la flessioni challenge Che lo so Si chiama piegamenti challenge Ma è più bello flessioni Troppo fighe Cioè adesso onestamente Quanto sono belle da 1 a 10 A me lo stai chiedendo 12 12 12 12 12 Confermato Anche intanto che si prodiga a tagliare il finocchio Io preparo le due oratine E vi faccio vedere come le preparo Con limone E peper limone Che meraviglia Che meraviglia Allora a parte la tua che si è un po' sgancherata E la mia invece è un po' più decente Sì non male 380 grammi di oratazza Per bene fatta appunto In padella Senza acqua, senza olio, senza niente E finocchietti Per cui direi che ci siamo Come spezza al solito Pepe e limone E poi oggi Io mi provo queste nuove gallette di riso e soia Che secondo me Sono buonissime Buongiorno a tutti Sabato, giorno dopo Allora volevo dirvi due cose A livello più che altro alimentare Si può dire un po' un aggiornamento di tutto Quello che è il mio comparto Sia alimentazione e allenamento Ovviamente anche il mio fisico Dopo il wellness E appunto dopo il ritorno Diciamo da quella fiera lì Stamattina appunto ho fatto un check Un physique update Che non facevo veramente Da un bel po' Non facevo quasi da Praticamente tre settimane Dall'ultimo video Sul lachetto da bro Che avevo fatto con il confronto E sono sincero Non ho ancora confrontato dei clip Però per come mi vedo Allo specchio E per come effettivamente Mi vedo Sia in pump Che fuori pump Quindi sia la mattina eventualmente Sia anche dopo l'allenamento Mi vedo bene Allora è chiaro che Mangiando carboidrati Ho leggermente più ritenzione Sia a livello addominale Che è in assoluto La zona in cui a me si vede di più Sia ovviamente Anche a livello muscolare Sono leggermente più pieno Si può dire che Mi sento bene Sono molto in equilibrio In questo momento Mangiando più carboidrati E questo tuttavia Mi porta anche ad avere Il cortisolo più basso Meno stress E quindi anche meno gonfiore Per quanto riguarda La colazione al volo Invece è la solita Per cui non vi dico più niente 50 grammi d'avena 50 grammi d'album Eventualmente li metto insieme Qualche fluff drop E poi mi guardo Dr. House La mattina Oggi partiamo con l'allenamento Non sto più facendo La routine precedente Perché ormai sono passate Dalle 6 alle 7 settimane Per cui in realtà Sono in una fase di transito Sono in una fase di equilibrio In cui appunto Dobbiamo programmare con Alberto Un nuovo protocollo di allenamento E quindi Almeno per adesso Sto facendo Una routine classica Push pull E eventualmente leg day Ripetuta nel tempo Per cui se mi alleno 5 volte Faccio push pull Leg push pull E poi eventualmente Riprendo Oggi è giorno appunto Di back and biceps Per cui pull day Vediamo di fare qualcosa Crematore manubrio 4x10 Una pedalata non competitiva Con partenza alla sorgere del sole Il mondo è un facile percorso E la tua è di circa 1 euro Che valorizzera la bellezza Full e basso In 4x8 Con partenza alla sorgere del sole Ho Faccio Quattro A E Con partenza all' time Con partenza all' time Con partenza all' time Ho 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 quello che dovete capire è che io ero abituato ormai a praticamente una monofrequenza per cui è da tantissimo che non faccio una multi ovvero due volte a settimana lo stesso gruppo tipo distanza di tre giorni questa è la seconda volta che faccio dorso e questo è il primo esercizio cioè normali trazioni per max con fermo isometro di un secondo in alto e mi stanno uccidendo tutte le persone che seguono lui su Instagram mi metto qua Instagram nel caso che io lo sanno però le persone dei vloggini dei chicchini del vlog non lo sanno per cui qual è la tua decisione in merito alla tua carriera da atleta da atleta niente ho deciso a settembre di gareggiare e provare a fare una gara da Memphis in NBFI e niente lo sapete che Luca è sempre molto spontaneo però effettivamente quando si tratta quando tratta poi di argomenti che lo riguardano si imbarazza perché giustamente è una cosa importante però a parte di scherzo è una bella cosa è una cosa che ho sempre voluto fare gareggiare è una cosa che da tantissimo tempo diciamo che avevi un attimino forse bisogno di una guida cioè di una persona che ti indirizzasse e in questo c'è stato d'aiuto faccio altri due esercizi di biceps e poi me ne vado perché inizio a sentire la stanchezza tu intanto continua a spingere che il V-shape ti servirà allora aspetta rifaccio un tecone detto esercizio di bicipiti che non ho assolutamente voglia di spiegare però in super set un 4 per 10 più 10 10 compresa prona 10 compresa subina ok diciamo un 10 più 7 basta non ne ho più allora io sono completamente collassato dovrei fare un po' di addome master big addome se vuoi te lo faccio io per te allora facciamo che lo fai tu per me perché io l'ho già fatto tre volte questa settimana oggi sono veramente cotto per cui direi andiamo sinceramente non ho ancora capito se il mio vicino di casa lo fa apposta a fare un bordello di rumore quando io devo registrare ovvero praticamente boh alle due e mezza di pomeriggio oppure mettiamo un po' di Spotify per contrastare intanto che si raffredda il mio super caffettone post pranzo vi parlo un attimo del mio comparto alimentare attuale oggi per pranzo ho mangiato gli soliti 80 grammi di riso vasmati con appunto delle verdure a corredo e circa 180 grammi di petto di pollo fatto alla griglia al solito non mi faccio mai mancare le mie spezie le spezie di tagli la paprika fumicata che mi finite sempre il bevo al limone che finisco solo io qual è il mio regime alimentare attuale? beh ormai ve l'ho detto però non vi ho spiegato nel dettaglio diciamo quali sono sapete che mi piace essere abbastanza preciso nel darvi le informazioni perché così potete davvero comprendere tutta la mia situazione e condizione almeno attualmente sono a un regime di carboidrati medio basso fisso sono circa 180-200 grammi di carboidrati 40 grammi di grassi e 180 grammi di proteine per cui sono ancora in un regime ipocalorico però nonostante tutto sono passato diciamo prima del Rimini da una dieta senza carboidrati a una dieta con carboidrati e questo cosa mi ha portato? mi ha portato ad avere diciamo uno stress mentale interno personale e sociale molto più basso questo perché prima sentivo davvero tantissimo la pressione un po' del Rimini ma un po' di tutta la situazione perché vi ho già spiegato la questione che non avevo un obiettivo fatto all'interno del Rimini ma era solo diciamo una cosa buttata lì che purtroppo non mi ha spronato abbastanza almeno diciamo a livello personale come potrebbe fare una gara per un atleta questo quindi mi aveva portato tanto stress al punto da decidere di ritornare a un regime molto più equilibrato molto più sereno che in realtà facevo già molto prima della chetogenica e quindi vi ho sempre portato sul canale alla fine gli stessi alimenti solo che la differenza qual è? che adesso sono molto molto più equilibrato si può dire non flessibile flessibilità secondo me a volte può essere intesa in maniera sbagliata perché purtroppo tante persone si permettono il lusso di definire dieta flessibile una dieta completamente fuori porta del tipo mangiare al McDonald's ma rientrare nei macronutrienti quello non è un mangiare salutare o un mangiare per raggiungere un dato obiettivo secondo me è la volontà di forzarsi ad accettare determinate situazioni alimentari che secondo me poi sono principalmente derivanti da disagi interni disagi prevalentemente psicologici per l'amor del cielo anch'io ne ho sofferto però quel che voglio dirvi è che comunque si ho allargato di molto il parco alimenti ho inserito anche delle bevande e diciamo degli aromatizzanti zero calorie come fossero i flap drop come fosse appunto lo avete visto la coca cola zero o l'estate zero questo perché mi consente di essere molto più sereno a livello personale e tutto si ripercuote sia in un miglioramento ovviamente fisico perché ti vedi meglio e ti senti meglio ti alleni meglio sia anche a livello sociale con altre persone fossero la mia ragazza fossero anche gli amici è chiaro che ve l'ho detto anche negli ultimi due video non ho degli obiettivi in questo momento non ho la volontà di arrivare a una gara ok però voglio parlarvi poi di un argomento molto importante che è l'addominoplastica lo farò in un video adeguato probabilmente quando avrò anche molte più informazioni a corredo però penso che comunque ve lo spoilerò pochissimo da settembre probabilmente inizierò a mobilitarmi per fare l'intervento ve ne parlerò molto più nel dettaglio quando avrò informazioni specifiche anche perché adesso veramente sono solo parole buttate lì pensieri però comunque sia voglio dirvi che il caffè effettivamente è buono dentro ci ho messo due gocce di fluff drop e un paio di gocce di tic sempre ottimo per parlare un attimo di cose tecnologiche che so che a molti di voi interessa ho dato indietro la switch ad amazon e appunto ho ricevuto il rimborso effettivamente un po' mi manca ma lasciamo perdere in realtà la canon nel video che ho fatto quando io ero a Rimini ovvero la differenza appunto tra quella che è la sony che sto usando adesso e questa che appunto mi era stata inviata mi è stata inviata più che altro per testarla mi sono reso conto e me lo avete detto anche voi che effettivamente la sony ha una qualità migliore sia per quanto riguarda il comparto audio che per quanto riguarda suono qualità di immagini e colori per cui penso che questa fino a quando la terrò la utilizzerò solo di riflesso perché comunque ha molteplici vantaggi come lo stabilizzatore e soprattutto come anche lo zoom che non è da trascurare effettivamente è molto più ampio di quello della sony e basta però per il resto utilizzerò ancora la stessa sony perché mi regala molte più emozioni questa modalità però a 30 frame al secondo ditemi effettivamente come la trovate perché io non lo so sono sempre un po' scettico sullo scendere di frame ma preferisco averli sempre alti però a tutti gli effetti tutti registrano a 30 frame e poi li inseriscono su youtube perché è molto molto più cinematico molto più comune all'occhio umano quella che appunto i 30 frame al secondo rispetto ai 60 che sono molto forzati molto fluidi boh fatemi sapere nei commenti questo video è già venuto stralungo però devo farvi assolutamente la recensione di quello che abbiamo comprato all'esse lunga questo estate zero il vero problema è che purtroppo è già finito perché è veramente buonissimo cioè in sostanza opinioni è un estate in questo caso la pesca esattamente un estate però praticamente a zero calorie cioè per 100 ml a 3 calorie cioè 100 ml tipo mezzo bicchiere 3 calorie 3 la bevanda in realtà che però cercavo all'esse lunga e non ho trovato e poi l'ho trovato all'ipera da resa il giorno dopo infatti ho fatto scorta è questa la monster ultra zero white quella che praticamente si vede in tutti i video di Guzman vi dico una cosa l'avevo già provata ma non me la ricordavo è veramente la migliore monster di sempre che è